Saverio, è importante sapere anche l'opinione di chi... Come si mangia in questo locale? Allora, dal perata si mangia la perata, veramente bene, cucina tradizionale, una buona cucina, sana. A chi la consigliamo? A tutti? La consigliamo a chi mangia bene il pesce, chi vuole mangiare il pesce fresco, può venire dal perata che trova tutto il pesce fresco. Dal pesce spada, i gamberetti, i scampi... Ma il pirata è un bravo ragazzo? Il pirata è il numero uno di bagnare, è il papà di tutti. L'unico diventa del pirata e della Juve. Ah, se no, se no! Comunque rettifichiamo che è il papà di tutti, perché se no... E a chi vuole il caffè la mattina, il commetto vado da una volta che il papà è pagato. Ah, il caffè è pagato. No, se no domani mattina arrivano tutti qua e il papà di tutti. Se qualcuno si toglie di portare o no, da pagare, da pirata magge. Ah, gratis, gratis, tutto offerto. Ma non è una macchina, cavolo, di patata? Pirata, confermi. No, che caffè, il papà ci arriva. Non basta che hai il manzanino, il curato è il manzanino buono. Niente, neanche. Veramente, papà aiuta a chi ha bisogno, dai. Al presidente della Proloco che diciamo? Perché si mangia tutti. Si fa bene, si paga giusto. E' importante che si fa. E si trova bene, perché è tutta una famiglia. Al presidente che diciamo? Una persona seria, una persona importante. brava a bagnare, ha fatto molto per bagnare, è disponibile per bagnare per gli amici. Se avete bisogno di 4.000 euro. Una famiglia unita, una buona immagine di bagnare. A me ha promesso un pesce spazio, non so quando me lo dà. Il presidente? Il presidente si ha promesso qualcosa. Sicuro che me lo dà questo pesce spazio? Salutiamo i nostri connazionali all'estero, all'estero. Facciamo complimenti al pirata, allo staff del pirata. E oggi mi hanno fatto un bel piatto di pasta, lo ringrazio, non ho soldi da pagare, se no glielo pagano. Ma vabbè, il papà è il papà, il papà è il papà. E il papà. E se avete bisogno, mio papone, di più qualità potete andare con la lapronoma, non c'è più. E per io? Sì. Comunque, se avete bisogno non venite tutti da soveri. Dividete che bagnare per l'acqua.